In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Leandro Burgai, editore, presenta, in esclusiva su Lady Channel, la saga dei nostri emigranti. La storia che ha appassionato il mondo. Una terra promessa. Finalmente arriveremo in Brasile. Addio, vecchia vita. Salve nuova vita. Il sogno di una vita migliore. Che meraviglia. Voi state per andare a vivere in un paradiso. Sullo sfondo dell'epopea dell'emigrazione italiana in Brasile. Si chiama Giuliana. Ci siamo persi durante lo sbarco. Una struggente storia d'amore. Che vita nuova è questa? Se tu non sei qui con me, Giuliana mia... Io ti ritroverò, Matteo. Te lo giuro. Il racconto di vicende appassionanti. Che cosa hai visto di così terribile? Mio figlio, Massimiliano. Angelica deve sposarsi con uno che mi dia un nipote. Un nipote maschio. Terra Nostra. Prossimamente su Lady Channel.